A proposito di De Luca e dunque la città di Salerno che si sta preparando alla prossima tornata elettorale, viviamo un momento di attesa anche nel Cilento, da Vallo della Lucania e da altri centri, si andà al voto, secondo lei, da osservatore, non le chiedo l'intervento da direttore generale, ma da osservatore, da cilentano e da vallese. Da cilentano, da osservatore esterno, devo essere sincero, la vedo abbastanza tranquilla a Vallo della Lucania, al di là di quelle che sono le necessarie, doverose, anche fibrillazioni un po' create, un po' esistenti, però credo che siamo in un momento abbastanza tranquillo. L'amministrazione uscente, il momento di raccogliere anche i frutti del lavoro. C'è un progetto, c'è un programma che ha cominciato a dare qualche risultato, sarebbe anche logico che se completasse questo tipo di progetto. D'altra parte veramente non riesco proprio a vedere altre situazioni, anche perché Vallo della Lucania non è un paese che può essere gestito o comunque amministrato da qualcuno senza una certa esperienza, anche di tipo amministrativo. Mi sembrerebbe veramente un salto nel buio. Vallo della Lucania ha bisogno invece di stabilità, così come tutto il cilento. In questo momento c'è bisogno di stabilità, c'è bisogno di guardare in avanti e portare avanti quelli che sono dei progetti già in campo. Qui secondo lei grandi stravolgimenti. Ma secondo me non riesco proprio a individuare. Al momento devo dire che anche noi giornalisticamente abbiamo difficoltà a dare un volto e un nome al competitor, probabile competitor del sindaco Tonia Loia. C'è un lavoro, stanno lavorando, ci sono delle realtà che stanno venendo fuori. Siamo in attesa anche noi, però in questo momento lei dice grandi stravolgimenti, appella, sensazioni non dovrebbero essercene. Io, francamente, dal mio osservatorio, che può essere assolutamente un osservatorio non competente, se ci mancherebbe altro. Vivo a ballo, insomma. Sì, vivo a ballo, però voglio dire, non è che seguo poi da vicino la politica, però francamente non vedo, anche perché, ripeto, c'è un progetto in corso, ci sono delle cose che si stanno portando avanti. Quindi alcune possono piacere, altre possono piacere di meno, ma comunque c'è una strada, insomma, che si sta percorrendo, un cammino che si sta percorrendo. Non vedo, francamente, all'orizzonte altre cose, altre situazioni che possono, salvo che non parliamo di, ecco, salti nel buio, insomma, però francamente non ne vedo in questo momento. Però da cittadino valese le posso fare questa domanda, che cosa si augura? E per Vallo e per il Cilento ha anche il riferimento. Torniamo al direttore generale. Ma io ho detto prima, io credo che questo è un territorio che ha bisogno di stabilità, ha bisogno di trovare veramente i suoi numeri, il suo modo di essere e anche la sua vocazione, che è una vocazione di ospitalità, che è una vocazione, diciamo, di futuro legato a quello che è il turismo e anche a delle iniziative, se volete, di carattere imprenditoriale. Se proprio dovessi dare un consiglio a qualcuno che magari, perché poi come osservatore anche di tipo economico, io dico che forse certi investimenti che sono stati fatti nel tempo a Vallo, mi riferisco per esempio a tutto il discorso del quartiere feristico, che è un investimento notevole che sta lì, assolutamente scatola a vuoto in produttivo, dovrebbe essere riqualificato e messo in produzione in economia, in economia in modo un poco più concreto, insomma, magari ristrutturato, magari finalizzato. Oggi, l'ho detto anche in altre occasioni, le aree PIP, le aree industriali, le aree, diciamo, di sviluppo dei territori, corrono tutti, diciamo, vicino a quelle che sono le arterie di grande comunicazione. L'arteria di grande comunicazione di questo territorio è l'Accidentana. Vicino a questo territorio c'è il quartiere feristico, secondo me un futuro nell'ambito imprenditoriale o di sviluppo imprenditoriale deve passare attraverso una riqualificazione. Questo messaggio che facciamo agli imprenditori, insomma. Sì, agli imprenditori, ma anche alla politica, anche alla politica locale che pensasse a un domani, perché, voglio dire, è economicamente più corretto posizionare certe strutture vicino alle strade di grande comunicazione. Qui si comincia, si continua a pensare, a far sviluppare, non so, l'area artigianale di Angelara, ma è avulsa da quello che è la strada di grande comunicazione. Si trova difficoltà a raggiungerla, invece lì potrebbero essere fatte altre cose, anche più produttive, anche una certa residenzialità, se volete, in quell'area lì. Invece da quest'altra parte dovrebbe… è un consiglio così, che viene da uno che guarda il territorio e che… Vabbè, da occhi a te, chi è abituato a guardare… No, ma anche perché se poi scendiamo lungo l'Occidentale e troviamo quella di Casalverino e poi troviamo quella di Omignano e poi andiamo avanti e troviamo gli insediamenti produttivi privati, cioè, voglio dire, comincia a diventare un percorso. In quella zona, ricordo che c'è anche l'area, diciamo, artigianale, storica, dove noi fra poco ci trasferiremo, perché, ecco, un altro annuncio che voglio dare, la ristrutturazione della nuova sede, diventerà un po'... Dobbiamo ricordare lo stabile che si trova proprio alla rotonda, all'uscita della Cilentana di Vallo. Lì diventerà una sorta di centro direzionale della città, lì, poco vicino, c'è il Bernardinis, il nuovo teatro. Voglio dire, è tutta una zona che potrebbe essere, diciamo, ristrutturata, riqualificata, reindirizzata e poi andando avanti. Il prosieguo, lei dice, al momento ridiamo vita. Ridiamo vita a quelle che sono il futuro, voglio dire, imprenditoriale. Cosa ci vede lei all'interno del polo fieristico, degli eventi, una realtà stabile, che cosa ci vede? Io, francamente, se proprio dovesse essere chiaro, vedo l'insediamento industriale e artigianale lì, perché logisticamente sono posizionati bene per ricevere quelli, invece il quartiere fieristico, se serve, se dovesse servire, magari lo si potrebbe posizionare anche diversamente, la stessa Angelari. Ma che diventa in effetti una platea pubblicitaria, insomma, non serve la vicinanza, voglio dire, alle arterie di grande comunicazione. Quella serve più a chi deve fare imprenditoria, a chi deve fare sviluppo. Ci sono già i capannoni, c'è tutto, bisogna semplicemente fare un progetto di ristrutturazione. Beh, questo è un importante messaggio, suggerimento, insomma, che il direttore Solimeno ha lanciato, e agli imprenditori, alla politica locale. Allora, siamo in chiusura con questa chicca, con questa ciliegina. Ci salutiamo, allora, un suo saluto ai soci, in particolare, oltre che ai nostri telespettatori, ai tanti clienti della banca. Ci salutiamo ai soci della banca e anche un invito per la prossima assemblea che faremo di approvazione del bilancio. Abbiamo già la data? No, non l'abbiamo ancora fissata, la fisseremo prossimamente, ma credo che sarà fra fine marzo, inizio aprile, e poi successivamente all'assemblea straordinaria che ci dovrebbe portare alla fusione con la PCC di Sassano. Saluto Sette TV, che è sempre molto gentile ad invitarmi, lei, la dottore Scelza, e noi stiamo a disposizione, quando volete, ci possiamo sempre risentire. È un gran piacere. Un grande saluto a tutti i telespettatori. Allora, grazie al direttore Ciro Solimeno, naturalmente noi ricambiamo i ringraziamenti, perché la banca del Cilento e Lucania Sud è sempre attenta e sensibile nei confronti della nostra emittente. Quindi la ringraziamo sicuramente in modo particolare. Grazie a lei e grazie naturalmente a chi quotidianamente lavora all'interno di questa importante realtà. Noi ci fermiamo qui, è tutto davvero per la rassegna stampo di Erna. Restate con noi tra qualche istante la nuova edizione di Sport 7, in studio il collega Salvatore Serio. Oggi edizione infrasettimanale della nostra informazione sportiva e poi torna il nostro telegiornale. Grazie, arrivederci. Questo programma è stato offerto da Infante Calzature e Pelletterie A Valo della Lucania in via Angelo Rubino E ad Agropoli in via Pio 1070 Infante Calzature Grazie a tutti.